wow gran belle mosse marley bravo quale sarà il tuo prossimo trucchetto fai attenzione marley fai attenzione a quelle rocce sono molto larghe oh ti sei bloccato spiacente ragazzi marley è rimasto bloccato gli serve il tuo aiuto presta molta attenzione alle rocce spingilo super camion è troppo pesante super camion è arrivato il tempo della trasformazione il mega mezzo pesante riuscirà a spingere via la roccia prova ancora super camion si si sta muovendo super camion marley cerca di tirare la tua ruota via dalla roccia marley è finalmente libera ottimo lavoro super camion oh no la roccia sta rotolando contro carrie e walter carrie walter fate attenzione alla roccia no guarda dritto davanti a te super camion super camion usa l'ST3000 veloce super camion usa il raggio telecinetico per fermare la roccia super camion ottimo salvataggio super camion ora siete salvi grazie per aver salvato tutti quanti super cam oh oh marley sei bloccato ancora ehi lili stai portando i piccoli al parco stai per fare un mega lancio di palloni per san valentino di che si tratta stai per lanciare 100 palloncini ma è fantastico penso che i piccoli vogliono che tu vada ancora a zig zag lili lili fai attenzione oh no lili va tutto bene i piccoli stanno bene lili puoi muoverti tu come dici chiedere l'aiuto di super camion ma questa è una grande idea lili tieni duro carl carl emergenza carl ci serve il tuo aiuto lili e i piccoli sono bloccati sul monte al parco potrebbero cadere a Grazie a tutti. Lili, c'è qui Super Camion per salvarti! Ah, meno male, i piccoli sono dentro. Stai per trasformarti! Meraviglioso, una grande idea! Lili, c'è qui? Stupendo! E ora puoi salvare i piccoli! Grandiosa idea, Carla! Ok, piccoli, dovete prepararvi per saltare sul supercannon, ok? Siete pronti? Coraggio, ancora due! E ora l'ultimo! Supercamion, è il caso che tu faccia qualcosa! Manimo! Oh no! Oh, quei palloncini stavano tenendo Lily in equilibrio! Ora devi fare qualcosa! Un materasso! Questo garantirà un atterraggio morbido! È vero, non è nel posto giusto! Piccoli, potete dare una mano! Ben fatto, piccolini! E ora Carla ti darà una piccola spinta, ok? Ok? Wow, un bellissimo atterraggio! Bene, piccoli! Sembra proprio che vi stiate divertendo! E anche tu, supercamion! E ora, prendetevela comoda, ragazzi! E grazie ancora, supercamion! Ehi, ragazzi! State nascondendo uova per la caccia all'uovo di Pasqua! Ehi, ma è favoloso! I piccoli si divertiranno un sacco a trovarli! Oh oh, Carla! Ci deve essere un guaio! E sicuramente qualcuno ha bisogno di te! E' meglio che tu vada a casa proprio ora! Walter sta aiutando Carrie a fare dolci in negozio! Ma sfortunatamente, non si sente molto bene! Non si sente per niente bene! E Amber l'ambulanza in questo momento è via! C'è qualcosa che puoi fare per aiutarlo, Carla! Coraggio, pensa Carla! C'è qualche modo in cui puoi essere in grado di portare medicine e aiutare Walter? E allora andiamo! Oh no, supercamion! Sembra che ci sia un traffico terribile! Cosa sta succedendo? Ma che stanno facendo? Oh, stanno cercando le uova di Pasqua! Ecco perché si comportano così! Ma ora che hanno causato tutto questo traffico, supercamion, come arriverai fino a Walter? Hai già in piano di trasformarti! Oh no, ecco perché! wow super camion sei un'ambulanza questa è una grandiosa idea tutti quanti si sposteranno quando sentiranno le sirene e vedranno le tue luci lampeggiate attenzione veicoli siete pregati di spostarvi la superambulanza ha un'emergenza di cui curarsi oh Walter hai un aspetto terribile ma non preoccuparti il super camion è qui per aiutarti da quanto tempo ti senti ammalato Walter? e che cosa hai mangiato oggi? stavi aiutando Carrie a fare le uova di cioccolato e ne hai assaggiato per tutto il giorno quello amico mio è il tuo problema prendi questa medicina per il tuo stomaco sarai come un uomo in men che non si dica ma certo Walter facci vedere tutta la cioccolata che hai aiutato a produrre oggi oh ha un aspetto veramente delizioso fai attenzione Walter oh no c'è una perdita di cioccolato fuso ed è tutto sulla strada potrebbe essere molto pericoloso ma che succede? sembra che stia arrivando qualcuno ah è Jerry sta guidando troppo velocemente appena andrà sul cioccolato potrebbe perdere il controllo di se stesso Jerry si stati dicendo proprio contro di voi ragazzi super camion per favore pensa a qualcosa non preoccupatevi Carrie e Walter super camion il suo airbag vi salveranno tenetevi pronti sta arrivando ce l'hai fatta super camion hai salvato ancora una volta la giornata oh eccoci qua ragazzi Walter ha fatto per voi delle gustosissime coppe di gelato per festeggiare il fatto che nessuno si è fatto male Jerry Walter vorrebbe sapere se desideri una porzione extra di crema al cioccolato sulla tua grazie mille per il tuo aiuto super camion buona Pasqua a tutti quanti divertitevi eh ragazzi state facendo allenamento da campioni fate attenzione non lasciatela cadere ho sentito che ci sono degli squali sembra che ci sia qualcosa che non va è meglio che tu inizi ad indagare Walter si stava preparando per il tuo aiuto per la partita lui è un arbitro ma sembra proprio che ci sia troppo traffico Walter non riesce ad attraversarlo il gioco non può cominciare senza di lui ma la va ma la va Walter il super camion è qui per aiutarti Carl hai qualche idea ma non penso proprio che questo funzionerà esatto ti devi trasformare ahah 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 tutti a bordo è fantastico ora super camion riuscirà a muoversi senza curarsi dell'acqua che traffico wow wow così veloce wow così veloce wow wow oh no è esatto devi saltare altrimenti Walter non arriverà in tempo ahahah ahahah wow wow ce l'hai fatta ma quel salto speciale in slow motion ci ha rubato un sacco di tempo è meglio che tu ti sbrighi oh no c'è troppo disordine sui binari non riuscirai a passare va Linda Walter vieni fuori è tutto ok il super camion ha un piano ma che cosa ti stai preparando a fare oh no oh no è ok Walter l'ST3000 sa dove agire ST3000 vai attenzione tutti è tutto ok finalmente siamo pronti per il match sembra proprio che tu sia arrivato giusto in tempo Walter ah si io amo il calcio ma è semplicemente fantastico siete due auto da scontro oh oh qualcuno è nei guai ci serve l'aiuto di super camion oh oh Perry ha cucinato una bellissima torta al cioccolato per il compleanno di Amber ah ah Walter voleva portargliela all'ospedale ma nel tempo in cui è rimasto lì si è sciolta a causa del caldo di oggi super camion! devi salvare la festa di compleanno di Amber la torta non deve sciogliersi scogliersi. Oggi fa incredibilmente caldo. Guarda, guarda, super camion. Walter vuole mostrarti quanto velocemente si scioglie una torta. Come farai a portarla fino all'ospedale? Non c'è storia. Stai per trasformarti, vero? Un super treno, ma è magnifico. Ora Walter prendi la torta e mettila nel vagone del super treno. Dentro c'è freddo. Ok, super camion, super treno. E adesso all'ospedale. Che c'è super camion? Perché ti sei fermato? Oh no, ci sono dei lavori ai binari. Dobbiamo prendere un'altra strada. Oh no, Walter si è dimenticato di prendere la candela. Adesso cosa facciamo? Super camion, ferma! Non riesci a sentirci. Carrie, usa una scorciatoia per intercettare il super camion. Oh no, Carrie, stai attenta. Oh no! Carlo, frena con tutta la forza che hai. Non sta funzionando, non ti fermerai in tempo. L'unica soluzione è l'ST3000. Su, 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 coraggio! Hai surriscaldato i freni, devi dare loro un po' di tregua. Oh no! Sì, meno male, Carrie è salva! Buon compleanno a Ember! Sei Franca, questa è un'ottima idea. Li raffredderà senz'altro. Ancora una volta ci hai salvato, super camion. Grazie! Oh, ciao, Carla. Ma che cosa stai guardando? È Baby Rocky! Wow! Che magnifico atterraggio! Carla, a qualcuno serve l'aiuto di super camion. Fai veloce! Molang e Piupiù hanno visitato la nostra spiaggia oggi. Stavano giocando a frisbee, quando all'improvviso... Piupiù è scomparso insieme al frisbee. Nessuno sa che cosa sia successo a Piupiù. Carla, per favore, aiuta Molang a trovarlo. Il super camion è qui! Molang, ma che cosa è successo? Non stavi facendo attenzione ed hai perso il tuo amico. Dobbiamo trovare Piupiù. Deve essere da qualche parte qui intorno. Che c'è, super camion? Super camion, ti devi trasformare in qualcosa di più grande per muoverti su tutta la spiaggia. Hai tempo di trasformazione! Un super camion a molle, ma è meraviglioso! Chad dice che ha notato qualcosa di strano al circuito di gara. Ottima idea! Andiamo a dare un'occhiata. Guarda! Non c'è dubbio, è Piupiù! Oh no! Stanno andando contro Piupiù! Super camion, salvalo! Piupiù, spostati in fretta! Ci sono auto che stanno venendo contro di te! Super camion, lo devi assolutamente salvare! Sì! Preso! Tieni duro, mio piccolo amico! Ok, super camion, ora puoi lasciare Piupiù! E ora sei salvo! Dacci un abbraccio! Ah, bene! È stata una giornata intensa! Penso proprio che vi meritiate delle belle vacanze, amici miei! Divertitevi! Ci vediamo la prossima volta! Ehi, ragazzi! State facendo merenda? Oh, la forma delle nuvole vi somiglia! Che cosa bellissima! Wow, quel razzo sa veramente quello che fa! Guardate! E qui è anche il piccolo Rocky! Fai attenzione, Ben! Tornate indietro, piccoli! Oh, non resisterà a lungo! È meglio che chiami il super camion proprio ora! Carl! Carl! Bene, in pericolo! Sta quasi per cadere! Ti prego, fai presto! Supertruck! 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 super camion ah eccoti qua oh ben purtroppo continua a scivolare super camion devi pensare molto in fretta un super camion un trasportatore oh state indietro ragazzi non preoccuparti bene fai presto super camion oh no è la massima altezza che puoi raggiungere coraggio ci sei quasi coraggio super camion ci è mancato poco ben fatto super camion oh che sollievo state bene piccoli oh adesso volete scendere ma come avete fatto a arrivare fin lassù oh carino da parte di penny ma ora è dovuta tornare al lavoro la piattaforma del super camion è troppo piccola che cosa pensi super camion oh un enorme materasso bene piccoli ora dovete saltare sì ascoltate ben piccolini oltretutto sarà anche divertente oh vuoi andare per primo ma sei molto coraggioso pronto oltretutto 3 2 1 oh oh sembra veramente divertente non è vero e ora chi è il prossimo oh questa proprio non me l'aspettavo bene bel lavoro super camion oh i piccoli sembrano iniziare a divertirsi parecchio carl ce l'hai fatta anche questa volta ciao ciao ci vediamo alla prossima oh giusto oggi a car city è la giornata dello sport oh bel tiro edna oh penso questo faccia male oh no jerry che c'è che non va urgo con la palla ha compromesso il tuo impianto davvero non puoi fermarti oh no ciao ragazzi vi muovete alla grande vi posso rubare carl per un momento carl jerry è fuori controllo al parco non riesce a fermarsi e sembra che possa andare a sbattere ci puoi aiutare come on supertruck 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 A che cosa stai pensando, Super Camion? È vero, ti serve qualcosa per ogni tipo di terreno È qualcosa per il fuoristrada, è ovvio È vero, è vero Jerry, il Super Camion è qui per aiutarti Ma, Jerry, come farai a fermarti? Super Camion, lo devi assolutamente fermare! Cercherai di andare dritto e di azionare i freni, ma è un'ottima idea! Ma è troppo veloce! Super Camion, è meglio che tu gli stia dietro! Jerry, il ponte è proprio davanti a te! Non puoi andare da quella parte! Che cosa? Non riesci a sterzare! Super Camion, fai qualcosa! Jerry sta andando proprio contro il ponte! Super Camion, che stai facendo? Stai andando dalla parte sbagliata! Stai cercando di usare l'airbag per prenderlo dall'altra parte! Oh, questo potrebbe funzionare! Sì, Jerry, per fortuna stai bene! Però, le tue ruote continuano ad andare! Come possiamo risolvere il problema? Wow! Sembra che sia tutto risolto! Sono felice che tu stia bene! Ah, grazie per averlo aiutato, Carl! E grazie per averlo aggiustato, Walter! Anche se è stato un incidente! Jerry, devi comunque farti dare un'occhiata a tutti i circuiti! E ora ragazzi, prendetevi la comoda e godetevi il resto della giornata degli sport! Ciao!